Ciao, io sono Giacomo di www.psiche.org e oggi parliamo di dipendenze da videogiochi. Cosa si intende per dipendenza da videogiochi? La dipendenza da videogiochi è l'utilizzo eccessivo compulsivo dei videogiochi tale da renderli un'attività che interferisce con la normale quotidianità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiunto nel 2019 la dipendenza da videogiochi, anche nota come Internet Gaming Disorder, all'interno dell'ICD. L'ICD è l'International Classification of Diseases, cioè la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correnti. Da notare però che l'Internet Gaming Disorder compariva già nel DSM V nel 2013. Il DSM è il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali. Compariva sì, però sotto la voce condizione per ulteriori studi. Significa che non era ancora ritenuto un disturbo ufficiale. Qualche dato. Secondo dati Istat, il 95% degli adolescenti tra i 14 e i 19 anni utilizza Internet. E i ragazzi e ragazze che sviluppano una dipendenza da videogiochi possono rischiare di farlo a discapito della propria vita scolastica, personale e relazionale, rischiando così di isolarsi. Ora però è doveroso fare un passo indietro e dobbiamo chiederci che cos'è una dipendenza, come si sviluppa una dipendenza e in particolare come nasce la dipendenza da videogiochi. Ci sono dei rimedi? Tutte domande che abbiamo posto allo psicologo Andrea Russo. Che cos'è una dipendenza? Con dipendenza si intende una condizione in cui utilizziamo in modo talmente eccessivo una sostanza o mettiamo in atto un comportamento al punto che non possiamo più farne a meno. Quindi si può parlare di dipendenza patologica quando l'uso di quella sostanza o la messa in atto di quel comportamento è così intensa che non riusciamo più a gestirla in modo autonomo. Ci sono molti tipi di dipendenze, possiamo dividerle ad esempio in dipendenze da uso di sostanze come droghe, alcol, psicofarmaci e dipendenze da persone, ovvero la famosa dipendenza affettiva, ma anche la dipendenza da oggetti o comportamenti come ad esempio internet, il gioco d'azzardo, i videogiochi nel nostro caso e via dicendo. La differenza principale tra l'uso di sostanze e la dipendenza da oggetti come i videogiochi è che i videogames, a pensarci bene, non sono la causa della dipendenza, ma l'oggetto. Cioè non sono i videogames in sé a causare la dipendenza, ma l'uso sregolato che se ne fa. Ogni cosa che ci fa provare piacere, se la utilizziamo in modo eccessivo, può crearci una dipendenza. Si può essere dipendenti dai videogiochi? I videogiochi, come molte cose, presentano degli effetti negativi se sono usati con un'intensità e una durata eccessiva, quindi possono creare dipendenza, è vero. Però è vero anche che, secondo gli studi dell'Università di Oxford, giocare circa un'ora al giorno può aiutare a sviluppare molte capacità. Quali sono le cause di questa dipendenza? Le cause possono essere molteplici. La psiche è molto complessa, quindi sono molto complessi anche i meccanismi con cui si innescano le dipendenze. E ricordiamoci anche che ognuno di noi ha la propria unicità. Per fare un esempio però, una possibile causa potrebbe essere quella di voler cambiare la percezione di noi stessi o dell'ambiente in cui viviamo. Riuscire in un videogioco può farmi sentire capace di fare qualcosa e quindi aumentare la mia autostima. Oppure, se penso di essere molto timido, impacciato, se mi sento giudicato e non riesco a farmi degli amici o semplicemente non mi diverto con le persone che mi circondano, allora magari preferisco stare in casa a giocare ai videogames. Poi ci sono altre cause che possono essere legate ad esempio ad alcuni fattori che riguardano il nostro sviluppo, la nostra crescita e l'ambiente in cui viviamo, come avere amici che non fanno altro che giocare ai videogames tutto il giorno o avere dei familiari che soffrono di altri tipi di dipendenza. Sì, però non esiste una pillola o un metodo particolare che curi la dipendenza. Deve scattare dentro di noi una scintilla che ci fa riconoscere di avere un problema e che fa nascere un desiderio di voler davvero cambiare. E questo desiderio può essere anche acceso da amici o familiari, ad esempio proponendo delle alternative al videogioco. A quel punto uno psicologo o uno psicoterapeuta può accompagnare la persona in un percorso di cambiamento che la porterà a ristabilire un equilibrio all'interno della sua vita. Si potrebbero anche stabilire dei piccoli obiettivi da raggiungere volta per volta e capire il significato che il videogioco ha nella vita di quella persona. Quali sono le percezioni che ha del mondo, delle persone che lo circondano, dei suoi amici, della scuola. Può essere che parlare con qualcuno che accolga i suoi pensieri senza però giudicarli e che allo stesso tempo dia una visione diversa sulle cose possa aprire ad altri punti di vista e quindi permettere alla persona di iniziare un percorso che la porterà ad un cambiamento. Un consiglio per i genitori? Il mio consiglio è invece che rimproverare i figli di giocare troppo ai videogiochi potreste provare in un altro modo, a comunicare con loro cercando anche di capire il significato che attribuiscono al videogioco. Un consiglio pratico. Che personaggio sei? Che personaggio vorresti essere? Quali difficoltà devi superare? Sono tutti modi che permettono di entrare in contatto con loro e condividere questo svago facendolo diventare un'occasione per stare insieme. Ricordiamoci che i videogiochi possono insegnarci qualcosa proprio come un film. Un conto è guardare film di poco spessore nonostante un po' di leggerezza faccia sempre bene. Un altro conto è vedere film più introspettivi o che comunque possono trasmetterci un insegnamento, qualcosa. Insomma, il mio consiglio è non demonizzate i videogiochi ma modulate il tempo e l'intensità del loro utilizzo e scegliete insieme ai vostri figli dei giochi che possano non solo farli divertire ma anche insegnargli qualcosa perché i giochi possono simulare la realtà ma non per forza la sostituiscono. Bene ragazzi, termina qui il video dedicato alla dipendenza da videogiochi insieme al dottor Russo di cui vi lascio tutti i riferimenti in descrizione se volete approfondire con lui la questione o se avete delle domande, delle curiosità scrivetele pure nella sezione commenti vi risponderemo più che volentieri. Che dire, speriamo vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao!